Il primo giorno di Raduno si ricomincia dopo due mesi dall'ultima partita di campionato, con che spirito le sue staff vi ha prestati a vivere questa nuova stagione? Con grandissimo entusiasmo, comunque ci siamo riposati, abbiamo fatto meritate vacanze, anche lunghe, quindi abbiamo avuto il tempo di rilassarci in famiglia, di goderci il mare, il sole e oggi riprendiamo con grandissimo entusiasmo dove ci eravamo lasciati e non vedo l'ora di incontrare i ragazzi e di cominciare ad andare sul campo a lavorare. Si è sentito quotidianamente con il DS Lupo per le strategie di mercato, quindi vacanze ma comunque anche lavoro? Si, chiaro, con il direttore appena assunto l'incarico a tempo pieno ci siamo subito messi al lavoro telefonicamente, perché è giusto così, comunque sono vacanze ma poi è chiaro che per la costruzione della squadra c'era un colloquio continuo, una sinergia continua e siamo entrati subito in un buon feeling per cercare di andare a completare la squadra come abbiamo in testa di fare. I ragazzi intanto stanno arrivando alla spicciolata qui alla Corte del Sole, due volti nuovi perché non consideriamo nuovi sono due ragazzi giovani, due centrocampisti con caratteristiche un po' diverse, si sono messi in grande mostra in queste annate in Serie C, Castorani è una mezz'ala di inserimento, quest'anno ha fatto sei gol, è assolutamente un ottimo profilo, il colloquio è più strutturato, una mezz'ala di volume, un gran motore, quindi siamo contenti, sono contento che il direttore li abbia chiusi, che sono già a disposizione da inizio del ritiro. Nei prossimi giorni a partire da domani test individuali, visite mediche, da sabato si inizia a fare il suo serio nel ritiro di Cascia, ritiro che lei ha visionato come struttura proprio questa mattina con i suoi stati? Assolutamente sì, ho voluto un preritiro qui ad Ascoli proprio per testare un po' le condizioni dei ragazzi, per fare tutte le visite di rito, di controlli e poi andremo anche assolutamente a già iniziare a fare degli allenamenti, a cominciare da domani mattina e poi ci sposteremo in questa meravigliosa struttura che abbiamo visionato insieme alla società, insieme al team manager Mirko e che io ho visionato personalmente questa mattina insieme a tutto lo staff e il direttore. È una location molto bella dove tutto concentrato ci dà la possibilità di lavorare in grande serenità, senza fare spostamenti, sono molto contento di andare 15 giorni, chiuderci lì per incominciare a forgiare la squadra. Confermatissimo lo staff con cui ha lavorato la stagione scorsa, si avvarrà della collaborazione di un nuovo collaboratore tecnico, a fianco a Salvatore Gentile ci sarà Gianluca Cristaldi. Sì, Gianluca è un ragazzo che ha già lavorato con me, quest'anno ho avuto la possibilità di portarlo, di aggiungerlo ai ragazzi che già lavorano con me, sono molto contento, è un ragazzo che sa già la mia metodologia, le mie idee, c'è molto feeling, conosce già parte del mio staff e quindi non ci sarà nessun problema di integrazione. Grazie, misura. Grazie a voi.